Ha rubato un condizionatore d'aria all'interno della cattedrale e quando i carabinieri si sono presentati a casa sua, assieme alla rifortiva, hanno trovato anche la droga. E' costata cara la voglia di cercare un po' di refrigerio tra le mura domestiche ad un 25enne di Conversano, arrestato e finito ai domiciliari con le accuse di furto aggravato e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Le manette sono scattate al termine delle indagini condotte dai militari dell'arma dopo il furto di un deomedificatore e di un condizionatore all'interno della basilica di Santa Maria Assunta, avvenuto il 22 luglio scorso. Una volta acquisiti i filmati dalle telecamere di sicurezza installate nella cattedrale, i carabinieri sono riusciti a risalire all'identità del ladro. Sospettando che la rifortiva potesse ancora trovarsi in casa del ragazzo o in quella di un suo parente, i militari hanno deciso di perquisire entrambe le abitazioni. All'interno sono stati trovati alcuni capi di abbigliamento compatibili con quelli indossati dal ladro il giorno del furto e diversi grammi di marijuana e hashish, oltre al materiale utile per il confezionamento della droga. Infine, i militari sono riusciti anche a recuperare gli apparecchi refrigeranti rubati in cattedrale. Al termine dell'operazione, il 25enne è stato arrestato e posto ai domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria. La rifortiva, invece, è stata restituita al parroco.